Jack Daniel Lovers Tante cose fra cui addirittura loro sono stati il primo gruppo italiano che si è esibito in Unione Sovietica Sì, nell'89 abbiamo avuto questa opportunità e sono state cinque serate molto belle fra cui anche Vilnius nella Lituania che poi si è divisa un anno dopo Sì, vorrei anche che Piero presentasse i suoi compagni Sì, allora Pierluigi Mingotti al basso Gianluca Schiavone alla batteria Alan King al sax baritono Gregor Marini al sax tenore Massimo Venassi che è quello che insieme a me compone le canzoni Benissimo, abbiamo così salutato tutti i componenti dello Jack Daniel Lovers augurando loro molti successi, molte altre tournee e anzi